Mi chiamo De Diviris Rosario e siamo qui a Ponte Cagnano nella Piana del Sele. Siamo una piccola azienda con circa 50 ettari che conduciamo insieme a mio padre, mio zio e qui mio fratello Pasquale e ci stiamo impegnando in questo piccolo percorso della quarta gamma. La nostra azienda è stata fondata dal nostro nonno Pasquale nel lontano 1960. La produzione annua è di 40.000 quintali annui, di rucola facciamo 13-14 tagli. Sullo spinacino riusciamo a fare anche tre tagli. In tutto sono nove macchine che noi abbiamo. Abbiamo due serie F con il famoso Supersteel che sono delle macchine maneggevoli. Uno lo usiamo per la semina, per la baulatura perché ha montato un treno di ruote strette. Poi l'altro abbiamo, facciamo lavori come dischetto, fresa scatte. Abbiamo un altro LP 105 con le ruote strette che la maggior parte del suo lavoro me lo fa con una bollatrice a sbalzo. Un trattore molto grintoso per il lavoro che mi fa e sono molto contento come comodità e tutto della macchina. Poi tengo un LP 110 con gomme larghe. La maggior parte di quel trattore mi fa tutti gli attrezzi da 2,50 m a salire. Motore che è grintoso non mi dice mai di no. Ho un T5 115, lo uso con Ripper da 2,30 m e mi fa il lavoro con una fresa di 3,50 m. Sono appassionato, ci sono nato nei Fiat perché mio nonna aveva Fiat, mio padre ha continuato ad acquistare Fiat e io e mio fratello compriamo ancora Fiat. Il progetto per un futuro non troppo lontano sarà quello di riuscire a completarci in tutto ed essere soddisfacenti per il nostro lavoro, di migliorarci sicuramente a livello di produzione e di migliorarci su molte cose dove pecchiamo ancora. Quindi c'è tanto ancora da lavorare come c'è tanto ancora da imparare e continuare a crescere sia lavorativamente che professionalmente. Ciao a tutti e buon lavoro, siamo stati molto felici di ospitarvi nella nostra azienda.